Io non sono la mia menopausa perché è un momento di consapevolezza per tutti noi, per gli operatori ma anche per le donne dell'importanza del momento della menopausa, l'importanza di affrontare questo momento con tranquillità, sapendo di avere a disposizione molteplici armi per superarlo e per trovarsi in una nuova fase di vita anche migliore rispetto alla precedente.